La ballata per il popolo di Damanhur è un evento magico perché riesce a mettere insieme alcuni elementi della nostra vita e attraverso una rappresentazione teatrale aggiungere l'emozione che è l'ingrediente che fa accendere tutto il popolo e parteciparvi con un'onda comune molto interessante. Uno, due, tre, finiamo! Io come co-regista di questo esperimento ne ho riconosciuto alcune parti che io chiamo magiche. Già un mese prima delle rappresentazioni mi sentivo in compagnia di qualche vocetta che mi ispirasse un po' di più di anche un sentire che si allargava, non ero più una persona ma era come partecipare a qualcosa di più grande che mi era un'impressione viva per un bel po' di tempo. A volte ricordo gli alberi senza nome di una terra senza nome, chi mangiava con me nella ciotola di legno, chi mi rincorreva per uccidermi, chi mi ha ucciso, chi mi ha amato, chi ho amato, chi ha ascoltato le mie preghiere, le preghiere che ho ascoltato. It was very beautiful, very magical, very special, I felt really connected. Mi chiamo Simona e ieri ho avuto il modo di essere come ospite alla ballata e devo dire che è un'opera che consiglio tutti di vedere e tocca veramente il cuore. Mi è piaciuto molto l'atmosfera perché c'era molto di magico, molto del lavoro di gruppo, si è sentito un grandissimo lavoro di gruppo, un grandissimo entusiasmo, una grandissima passione. permette di viaggiare in tutte le parti di noi, tocca delle corde incredibili. Vieni, vieni a te stare con me. For me it was very impressive, although I couldn't quite understand it, or it was all Italian, but I could feel it, and sometimes it was very emotional. Though I don't understand completely, but what I appreciate is it's so, it's so, so human. And I love these stations there, different parts with all these different kinds of effects, and it was amazing, really awesome. So it was, yeah, like you said, emotional, it was overwhelming, it was, every step was something different, and even I hadn't understood everything because, or nothing, because I don't speak Italian, but it was really fantastic. Abbraccialissimo a tutti. Abbraccialissimo a tutti. So, grazie ad Amanur, grazie per questa grande condivisione. Let us know. Grazie a tutti.